ciao a tutti oggi realizzeremo questo bracciale all'uncinetto il materiale che occorre è cotone numero 6 panna biconi uncinetto 1,50 moschettone e dei cerchi per la chiusura vi lascio al tutorial inseriamo i biconi nel filato e avviamo 8 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 e 8 avviciniamo un bicone e chiudiamo a cerchio con una maglia bassissima abbiamo 3 catenelle 1 2 e 3 e lavoriamo 5 maglie alte chiuse tutte insieme all'interno del cerchio 1 2 3 4 e 5 tiriamo e lasciamo gli ultimi due fili avviciniamo un altro bicone e chiudiamo abbiamo di nuovo 3 catenelle 1 2 3 giriamo il lavoro e andiamo lavorare 5 maglie alte chiuse insieme in questo spazio 1 2 3 4 5 stessa cosa di prima tiriamo il filo lasciamo gli ultimi due avviciniamo il bicone e chiudiamo 3 catenelle 1 2 3 giriamo il lavoro e andiamo lavorare 5 maglie alte chiuse insieme nello spazio 1 2 3 4 5 5 5 tiriamo lasciamo gli ultimi due avviciniamo il bicone e chiudiamo 3 catenelle 3 catenelle 3 catenelle 1 2 3 giriamo il lavoro e andiamo a fare 5 maglie alte all'interno 5 maglie alte all'interno dello spazio 5 maglie alte chiuse insieme 1 2 3 go 26 catenelle 4 5 8 5 35 Lasciamo gli ultimi due fili, avviciniamo il bicone e chiudiamo. Dobbiamo fare questo lavoro per tutta la circonferenza del nostro polso. Inserite tutti i biconi, andiamo a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e ci andiamo a agganciare qui con una maglia bassissima nel nostro spazio. Di nuovo 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, andiamo allo spazio, ci andiamo con una maglia bassissima, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Cianciamo nello spazio con una maglia bassissima. Dobbiamo fare così per tutto il giro. Completato il giro, adesso in ogni archetto andremo a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ci agganciamo l'archetto successivo e andiamo a fare altre 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ci agganciamo con la successiva e andiamo a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Facciamo così per tutto il giro. Completato il giro, andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Tagliamo il filo e lo andiamo a nascondere. Adesso prendiamo il nostro moschettone, il cerchio e le pinze. Inseriamo il moschettone nel cerchio e lo agganciamo a una maglia. Chiudiamo il cerchio. Stessa cosa facciamo con i cerchi da quest'altra parte. E chiudiamo. Il nostro bracciale è terminato. Spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo tutorial.